In questo tratto di guardrail finisce la sua corsa alla lancia prisma del giudice Antonino Saetta. Sul posto guida a quello del magistrato, a fianco il figlio Stefano. Una pioggia di proiettili, 40 colpi di pistola calibro 9, forse di più. Aveva dato prova di essere un giudice integerrimo ed inavvicinabile. Evidentemente questo era inaccettabile. Con danni si detti alla pena di anni 22 di reclusione, giorni 20 di arresto e lire 2 milioni di multa. Rina e Provenzano temono che Antonino Saetta, con il suo rigore, possa andare a presiedere il max processo alla mafia. Fatevi una bella spremuta di arancia che vi riprendete, vi riprendete fuori fuori fuori. Il killer che guidava quel gruppo di fuoco non si accontentava di sventagliate di mitra, ma andava ad accertarsi sempre di persona e per non correre alcun rischio gli sparava anche il colpo di grazia. Il papà non era una persona qualsiasi. Lui era un magistrato che non si è lasciato corrompere. Non è sceso a patti per salvarsi la vita. La vicenda setta è una vicenda dimenticata. Incredibilmente dimenticata. Grazie. Grazie. Grazie per la visione!